Giovedì 16 novembre 2017 Ben trovati, appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi, le prime quattro edizioni del centro, ovviamente tutti i titoli dei quotidiani della nostra regione ma anche i quotidiani nazionali vertono sul maltempo, sull'ondata di maltempo che ormai da 48 ore sta colpendo la nostra regione, poi vedremo anche nella seconda parte dei servizi. Fortunatamente dopo l'emergenza di ieri ora la situazione sta lentamente migliorando, ieri codice rosso per quanto riguarda proprio il maltempo, per la giornata di oggi è previsto invece il codice arancione, dunque situazione che come dicevamo dovrebbe lentamente, gradualmente migliorare. Ma sono ancora tanti i problemi soprattutto nelle zone della costa tra il Terramano, il Pescarese ed il Chietino. Allora andiamo per ordine, come detto prime pagine dei nostri quotidiani, partiamo dal centro, edizione di Pescara, frane e allagamenti, incubo, pioggia, come vedete dunque il titolo principale riguarda proprio il maltempo, strade e scuole chiuse nella provincia pescarese, Silvi, Crolla, Il Belvedere, scuole chiuse anche oggi in diversi comuni della nostra regione, tra cui parlando proprio delle zone più colpite anche Pescara e Montesilvano e poi vedete questa foto emblematica di questa persona che nella pineta di Montesilvano esce uscito in canoa per questa uscita proprio non in mare ma in pineta per ovviamente attraversare con questa canoa la pineta di Montesilvano, come vedete letteralmente invasa dall'acqua, sembra questo un fiume invece all'interno della pineta, vedete i cartelli, i segnali stradali proprio a dimostrazione che non si tratta di mare aperto, di un fiume o di un lago ma bensì di una pineta dunque in terraferma. Vediamo anche gli altri titoli di argomenti che troveremo all'interno del giornale, la cronaca, Manoppello, incidente in casa, bimbo di nove mesi ustionato al volto, è stato trasferito all'ospedale di Roma. E poi idee etiliche sul capoluogo d'Abruzzo, così il presidente della regione Luciano D'Alfonso sulle polemiche di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, sul capoluogo d'Abruzzo, su questa disputa che è tornata a vedere da due parti opposte, l'Aquila e Pescara. Poi il giallo della pittrice sparita, l'autopsia non dà risposte per le condizioni difficili del corpo trovato dopo un mese, autopsia che doveva e dovrebbe chiarire le cause della morte della pittrice. Andiamo a vedere ora la prima pagina del centro edizione di Teramo in alto, un altro titolo importante che riguarda la nostra regione, non il maltempo ma il lavoro, l'occupazione perché la Onuel ora è ufficiale, abbandona l'Abruzzo. Vedete il titolo in alto, colpo durissimo per 420 lavoratori che dopo l'assemblea fermano lo sciopero. Dunque la proprietà dopo l'incontro al ministero ha deciso e vedete le reazioni, il ministro Calenda, una scelta molto grave, così ha detto il ministro. E poi ancora il maltempo, questa è l'edizione di Teramo del centro, bomba d'acqua, provincia flagellata, in questo caso parliamo della provincia di Teramo. Vedete questa foto con il belvedere di Silvi parzialmente crollato e poi fiumi esondati chiusa, la statale 16 e la ferrovia ieri sera per alcune ore, proprio a causa del maltempo e soprattutto in questo caso dello stato di allerta per i fiumi della provincia di Teramo, in particolare del fiume Piomba. E poi Giulianova, il giallo di Renata Rapposelli, troviamo anche qui ovviamente nell'edizione di Teramo del centro la notizia, l'autopsia non dà risposte. Poi Roseto, stangata a Tari, annunciate azioni legali e poi riaprono gli impianti a Prati di Tivo, dunque salva la stagione sciistica negli impianti e nella stazione montana della provincia di Teramo. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto, maltempo, in alto il titolo, crolli alle case Ater, paura a Chieti per un muro distrutto dalla furia dell'acqua, torna l'incubo frane. Vedete la foto a fianco, questo muro della casa popolare, questo muro crollato a Chieti. E poi Onnuel chiude e lascia tessa, questo è il titolo principale, essendo questa l'edizione di Chieti del centro. Il ministro Calenda, scelta grave, i 400 lavoratori, 420 per la precisione, fermano lo sciopero. Poi le altre notizie, Chieti il comune sposta l'autovelox di Brecciarola e poi Arielli finisce con l'ape contro un'auto grave anziano. E poi Fossa Celsia, ladri a scuola, portati via nove computer. Andiamo a vedere anche l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona del centro. Queste zone interne sono state un po' risparmiate, parzialmente risparmiate dal maltempo della pioggia che si è abbattuta principalmente sulla costa. Vediamo il titolo principale, PD Aquilano fuori, Cuzzi e Cantagallo. Aumenta la spaccatura nel partito dopo le esternazioni su Pescara, capoluogo di regione. L'assessore al comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, che avevamo ascoltato, proprio avevamo portato i nostri microfoni, proprio per parlare di questo argomento di Pescara che con la nascita dell'area metropolitana potrebbe aspira a diventare il nuovo capoluogo di regione. E poi, mezzo Abruzzo devastato da piogge record e frane, ritroviamo la foto del cittadino di Montesilvano in canoa nella pineta. Poi l'Aquila nascerà in città e dunque all'Aquila la centrale del 118 per le emergenze. A Vezzano, morte in ospedale, cancellata l'assoluzione. Poi sul Mona è deceduto da due anni, ma gli arriva la taria. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, il maltempo, flaggella la costa, pioggia record, Pescara finisce sott'acqua, scuole allagate, anche oggi niente, lezioni. Questo il titolo di apertura è Fosso Vallelunga, monitorato dalla Capitaneria, strade e ponti chiusi per la melma, il fango che ha creato davvero grossi problemi. E poi di spalla l'approfondimento della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, due ministeri bocciano il progetto dell'ospedale del DEA di secondo livello di Chieti e Pescara. Ci sono polemiche, ma l'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci, nonostante lo stop del ministero, ha detto che andrà avanti. E poi vedete a centropagina la Onuel chiude 420 licenziamenti, fallito il tavolo delle trattative al ministero. E poi Fiction Gomorra, i funerali griffati l'Aquila, gli originali spot dell'azienda di Taffo verranno riproposti nella trasmissione di Sky. Vediamo in alto altri argomenti, partiamo da Giulianova. Renata, l'autopsia non chiarisce le cause della morte della pittrice Teatina, auto sequestro bis, è stata di nuovo posta sotto sequestro, l'auto del marito e del figlio di Renata Rapposeli. E poi Bussi, lavori post sisma, 15 a giudizio per corruzione nella ricostruzione. Stiamo vedendo sempre i titoli in alto e parliamo anche un po' di sport del Pescara. Coulibaly carica il Pescara Provercelli, la gara chiave, dunque non si nasconde il 18enne centrocampista senegalese che potrebbe tornare titolare. Devo farmi trovare pronto, prime possibili mosse di mercato, doppio scambio in vista con la Ternana. Vi preannuncio che tra poco, più tardi, per meglio dire, nella seconda parte, ascolteremo proprio il centrocampista del Pescara, Coulibaly, avvicinato dal nostro Andrea Costantini. Possiamo lasciare dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere insieme le prime pagine invece dei quotidiani nazionali. Partiamo da Repubblica, Ius Soli subito legge, ecco la prima mossa per la pace a sinistra. Entro l'anno il voto, il governo metterà la fiducia, pensioni, sanità, biotestamento, i punti della trattativa. E poi vedete la foto a centropagina in alto, foto molto grande, vedete questo riquadro in cui ci sono il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente Putin russo. L'asse segreto di Trump con il Cremlino, una ragnatela di affari, dossier e sesso, scrive Repubblica. Corriere della Sera. Zimbabwe, arrestati Mugabe e la First Lady Grace, dunque c'è stato una specie di colpo di Stato nel paese africano. La fine del presidente padrone, perché finisce di fatto l'era di Robert Mugabe. Il presidente padrone, leggiamo qui dal Corriere della Sera, dello Zimbabwe è stato al potere per 37 anni. E poi la difesa dell'Italia su conti e debito, Bruxelles sbaglia, Gentiloni non siamo più il fanalino di coda. E poi una notizia che riguarda il via libera del Senato, l'inno di Mameli, precario dal 1946, dunque dal dopoguerra. Ora è l'inno nazionale, passato questo dopo l'approvazione al Senato, dopo il via libera al Senato. Dunque è ufficialmente questo il titolo, l'inno del nostro paese, un inno che era precario dal 1946, ma che è sempre stato l'inno d'Italia. Vediamo anche il messaggero, vaccini e scuola stop ai certificati. Manovra, dal prossimo anno saranno le Asla a fornire la documentazione, non più i genitori, Pil, Gentiloni, il presidente del Consiglio, primo ministro. Non siamo più il fanalino di coda dell'Unione Europea, Padoa, debito presto giù. E poi vediamo, se questa è Roma, vediamo in questa foto uno dei cunicoli sotto le metropolitane, le stazioni di Roma, dove è stata uccisa una 49enne brasiliana, c'è un indagato, i sottopassi del centro, vedete c'è anche questo titolo sotto la foto, restano a Roma, terra di nessuno. E poi si parla di nazionale dopo il fallimento, la mancata qualificazione ai mondiali, Miracolo Tavecchio di Missioni Ventura. E tiene la poltrona, Tavecchio resiste ma spunta collina, politica divisa sulla FIGC Ancelotti, potrebbe essere il nuovo allenatore della nazionale azzurra, un nome che metterebbe tutti d'accordo. Il tempo di Roma, la Raggi ci fa astrice blu, ecco la stangata, nuovo piano del Campidoglio, per far cassa con i parcheggi. E poi vedete, Tavecchio non si dimette dalla Federcalcio ma in compenso si autocandida Veltroni. Andiamo a vedere anche la stampa, un manifesto per salvare il po' inquinamento e siccità, una ventina di associazioni in campo per curarlo. Vedete questo tempo, questo clima impazzito, nel nord prosegue la siccità, nel centro-sud abbiamo visto, ma soprattutto nella nostra regione, quello che è accaduto nelle ultime ore con una quantità di pioggia che non era caduta neanche negli ultimi, probabilmente negli ultimi sei mesi. E poi la politica di Maiovede Parolin, prove di disgelo tra il Movimento 5 Stelle e la Santa Sede. E poi Libero, la sanità italiana, migliore al mondo, il vanto del welfare. E uno scandalo, scrive il Quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri. E poi il Fatto Quotidiano, altra inchiesta su Del 7, il comandante dell'arma accusato di favorire le manovre del sindacato Cocher. Andiamo avanti, la verità, i molti affari di Tavecchio sulla pelle del nazionale, non solo il fallimento sportivo a carico del presidente della FIGC, accuse di avere intascato soldi per le polise del calcio. E lo scandalo della sede della Lega di Lettanti, tutto rivelato dalla verità di cui stiamo vedendo la prima pagina. E poi un altro argomento, un altro titolo, Edoardo Agnelli, uno dei rampolli più importanti della famiglia Agnelli, forse non morì suicida, trovata una pista mafiosa. E questa sarebbe davvero una notizia clamorosa che potrebbe riaprire il caso sulla scomparsa di Edoardo Agnelli. E poi avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana, il DNA sia giusto, esperimento senza precedenti su un malato americano, può essere la speranza per le patologie genetiche. Poi vedete anche su avvenire, golpe in Zimbabwe, le forze armate prendono il potere, il presidente Mugabe, agli arresti domiciliari. Il secolo XIX, il quotidiano di Genova, Confindustria, Genova diventa casso nazionale, prezzo dell'aumento di capitale Carige, la lunga notte dopo il trionfo in Borsa. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, il calcio non si dimette nessuno, licenziato Ventura prenderà 700 mila euro, Tavecchio non molla la FIGC, si spacca. E siamo al manifesto, vedete il manifesto quotidiano nazionale, che in prima pagina mette anche, possiamo anche sottolineare questo titolo, la vicenda della Oniwell, Atessa, 420 lavoratori sbattuti fuori, la multinazionale Oniwell delocalizza in Slovacchia e chiude la fabbrica abruzzese. Dunque anche sul manifesto, in prima pagina, c'è la notizia dei 420 lavoratori della Oniwell di Atessa che verranno licenziati. E poi vedete il titolo a centro pagina, il numero ONU. La Libia non rispetta i diritti umani, si sapeva, non ha mai firmato la convenzione di Ginevra. Intervenendo la Camera, il ministro degli interni, Marco Minniti, che vedete nella foto, sotto accusa all'ONU, rivendica l'accordo con Tripoli. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore. Industria, Unione Europea all'attacco di Amazon e Alibaba, Confindustria, bene enorme anti-dumping per la Cina. E questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Dunque possiamo tornare, anzi prima di tornare alle vicende di casa nostra, dunque ai titoli, alle notizie che riguardano l'Abruzzo. Andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato anche della nazionale con i titoli sui quotidiani che abbiamo appena letto, di quello che sta accadendo con il licenziamento di Ventura e le polemiche anche in seno alla FIGC. Andiamo a vedere i primi titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dal Corriere, scusate, dalla Gazzetta dello Sport. Ancelotti non basta, Tavecchio non si dimette, lavoriamo per prendere un grandissimo allenatore. Lunedì i programmi, ha detto Tavecchio dopo la riunione di ieri. Si punta all'ex tecnico Rosso Nero che però non si legherebbe a una FIGC debole. Ventura non lascia ma si fa cacciare per incassare gli ultimi 800 mila euro. E poi vediamo anche qualche notizia che riguarda il campionato che tornerà nel weekend dopo la sosta proprio per gli impegni della nazionale. subito Napoli-Milan, Cajon e Suso, sfida al San Paolo per una maglia e poi la Roma verso la stracittadina Roma-Lazio, Re Kolarov e i due derby, Sessegno e Sulto. E poi l'Inter, Icardi, corre nel mirino a tre icone dell'Inter, tre icone dell'Inter che sono Mario Corso, Domenghini e Bieri. Dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport, vedete a centro pagina, Carlo chiama Carlo, Carlo Tavecchio chiama Carlo Ancelotti, Tavecchio licenzia Ventura, incassa la fiducia del Palazzo e annuncia l'arrivo di un grande CT, il sogno. E Ancelotti e poi in alto, Di Bala prepara la festa, ieri ha compiuto 24 anni e contro la Sampdoria, Barcellona vuole tornare a segnare e poi l'Inter, Riccardi prepara invece il volo. Chiudiamo con tutto sport, c'è un Carlo di troppo e non è Ancelotti, questo è il titolo che gioca sui nomi di Carlo Ancelotti e Carlo Tavecchio. In alto si parla di Juventus e Toro sul quotidiano sportivo torinese, Guain senza limiti, Domenica Marassi può battere il Baggio e poi il Torino, c'è il nuovo contratto pronto per Belotti che deve tornare Gallo. Belotti appannato anche nelle partite con la Nazionale. Noi possiamo tornare dunque ai quotidiani di casa nostra, la decisione shock, Honeywell chiude e abbandona a tessa. Il ministro Calenda dice scelta grave, vedete il titolo che campeggia su tutti i giornali, abbiamo visto anche la prima pagina del manifesto. Colpo durissimo per 420 lavoratori che dopo l'Assemblea fermano lo sciopero. vedete le foto degli ultimi incontri che ci sono stati e poi le dichiarazioni anche in basso parla il sindaco di Lanciano, presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. Catastrofe sociale per l'Abruzzo, dice Pupillo. Reazioni di sconcerto all'annuncio dell'azienda, Melilla inaccettabile. I sindacati dicono salviamo gli operai. Più tardi vedremo nella seconda parte un servizio sulla Honeywell. Parliamo di maltempo, mezzo Abruzzo devastato dal maltempo. Vedete le foto dell'acqua, quanta acqua è caduta nelle ultime ore. Nella prima foto il muro crollato a Chieti, la seconda il muro d'acqua a Santo Stefano di Silvi e poi l'immagine simbolo in canoa a Montesilvano. Silvi frana la collina e crolla il belvedere. Pescara, liceo interdetto, Chieti auto travolta da un muro. San Giovanni e Teatino in due rischiano di annegare nel sottopasso. È stata una giornata davvero difficilissima quella di ieri per la nostra regione. E poi cambiando momentaneamente argomento, vedete un articolo che riguarda il docufilm che è stato preparato dal Movimento 5 Stelle su bussi e ci sarà anche un concorso per gli studenti universitari per presentare un progetto di riqualificazione dell'area di bussi. Anche su questo argomento più tardi vedremo un servizio. E poi, cronaca regionale, Paolucci, il ministero non può fermarmi, scontro sul superospedale. Una lettera del direttore generale del ministero Urbani dallo stop al DEA di secondo livello diviso tra Pescara e Chieti. L'assessore ribatte, andrò avanti. E poi i due eventi all'Università d'Annunzio. Oggi a Chieti ci sarà il ministro Madia. A Pescara nel pomeriggio il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, il presidente dell'ANAC Cantone e Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia. E poi i giovani di Confindustria a Pescara si terrà il forum annuale. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca di Pescara ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, neonato ustionato al volto e accaduto a Manopello, una scintilla dal camino acceso, ha bruciato il suo cappellino. E poi pioggia da incubo, mezza città sott'acqua, scuole ancora chiuse, strade allagate impraticabili a Porta Nuova, ai Colli e a San Donato. Circa 150 chiamate, vigili del fuoco, danneggiati negozi e garaggi. Vedete le strade di Pescara completamente invase dall'acqua. In una foto di queste vedete il sopralluogo del vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli. Del Vecchio è stato un evento eccezionale. L'ex assessore ai lavori pubblici del comune di Pescara promuove gli impianti antiallagamento realizzati con 3 milioni di euro. Corridoi allagati, liceo classico chiuso fino a sabato, liceo classico di Pescara di Via Venezia. Vedete qui altre foto con i problemi che ci sono stati a Pescara per il maltempo e per la pioggia. Maltempo in città, allagata anche la caserma dei pompieri, la prossima sede. Nascerà in Via Pantini l'annuncio di D'Alfonso durante l'addio del prefetto di Pescara che a Roma si occuperà di difesa civile. E poi proprio le parole dell'ormai ex prefetto di Pescara Francesco Provolo i successi maggiori, la chiusura del mercatino etnico in centro e del ghetto a Montesilvano. E poi cambiando argomento i sette autobus elettrici sulla trafficata a Via Bovio, la proposta del comitato utenti Strada Parco. E poi la canonaca in Via Nicola Fabrizia, ieri a Pescara, motorino a fuoco sotto la pioggia. E poi un memorial di calcio per il ragazzo ucciso nel pub, parliamo dell'omicidio Bevilacqua, e dunque ci sarà un memorial in memoria di questo 21enne. E poi una perizia psichiatrica per l'assassino Dimonia, psicologa pescarese uccisa a Francavilla, la difesa punta allo sconto di pena, la zia della 45enne dice non abbiamo saputo difenderla, ora le spetta dignità. E poi a mano pelo investita l'uscita del supermercato, 55enne, donna di origine romena, in ospedale. E poi arriva anche in città il movimento animalista, un medico e una pedagogista, sono i coordinatori provinciali del gruppo politico della Brambilla. Vi avevamo sabato scorso proposto un servizio in occasione nel nostro telegiornale, proprio quando ci fu la presentazione del movimento animalista a Pescara. E poi la nuova Pescara, lo scontro d'Alfonso, pensieri etilici sulla città capoluogo di regione, il governatore getta acqua sul fuoco del confronto interno al PD, ma Cuzzi ribatte, credo, nella competizione delle idee. Anche il forzista sospiri da manforte ai sostenitori di una verifica dei ruoli istituzionali in Abruzzo se dovesse andare in porto il progetto di fusione dei comuni metropolitani. Proseguiamo il maltempo a San Giovanni Teatino con l'auto nel sottopasso allagato Salvi, paura per due cittadini cinesi, soccorsi dei vigili del fuoco, inancibile anche il campo della cittadella dello sport. E poi sempre a San Giovanni Teatino, riqualificazione urbana con metro, i manager del megastore in municipio, oggi verrà inaugurato Oreca. Proseguiamo con il maltempo anche a Francavilla, stabilimenti distrutti, sottopassi allagati, vedete famiglia sgomberata a Pretaro, Luciani, la città a retto, tra poco vedremo anche un'intervista con il primo cittadino di Francavilla e poi maltempo e problemi, grossi problemi anche a Montesilvano, città piegata, sott'acqua, la protezione civile, confermate anche per oggi la chiusura delle scuole, ne parlavamo prima, vedete le immagini di tante strade allagate anche a Montesilvano e problemi anche nell'area vestina, penne, sgomberata una famiglia, crolla l'argine sul fiume fino, il territorio devastato dalla pioggia e dal vento, danni alle aziende agricole, a Colle Corvino un'abitazione a rischio per l'esondazione del fiume. Siamo a Chieti, alla pagina di Chieti del centro, l'impianto di Brecciarola, il comune sposta l'autovelox delle multe, spunta un atto della Polizia Municipale, è necessario ed urgente cambiare posto al Velocar, i lavori costeranno 13.000 euro. Poi la cronaca ad Arielle, ape contro l'auto, grave anziano trasferito a Pescara e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Poi a Fossa Cessia, vedete questo titolo, l'Adria Scuola rubati nove computer, terzo furto nella media di Viale San Giovanni, i malviventi hanno agito durante il maltempo. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro, in questo caso siamo a Sulmona, i paradossi della burocrazia, deve pagare l'Atari, ma è morto da due anni, Panfilo Pantaleo era dipendente del comune, la casa tassata era inagibile, i familiari una situazione assurda e più volte segnalata a Palazzo San Francesco. E poi salvò ragazza in Australia, medaglia al valore civile per un giovane di Raiano, Gian Felice, Fonte. E poi in basso, grandi rischi, siamo all'Aquila, scontro sui risarcimenti, udienza il 29 gennaio sulla richiesta di restituire le provvisionali, le parti civili, dicono assurdo. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo, il mistero di Giulia Nova, la morte di Renata Rapposelli, l'autopsia non chiarisce il giallo. Ha parlato anche la trasmissione, chi l'ha visto ieri sera di questa vicenda, esame difficile per le condizioni del corpo trovato dopo un mese, scatta il sequestro bis dell'auto di ex marito e figlio, e dunque si continua ad indagare. E poi in basso, a Teramo, minaccia con la pistola il fornitore, il ristoratore Teramano a processo, lite per un mancato pagamento di olio. E poi è arrivato il maltempo, sono arrivate temperature in linea con la media del periodo, in montagna anche le prime nevicate, a Prati di Tivo il 15 dicembre riaprono gli impianti sciistici. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma prima di parlare di sport dobbiamo andare a vedere le altre pagine di cronaca del inserto Abruzzo del Messaggero, lo faremo tra qualche istante, ora ci fermiamo per la consueta pausa, andiamo a vedere anche, a proposito di maltempo, le previsioni per le prossime ore, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, abbiamo esaurito, lo avevamo fatto prima della pausa, la lettura delle pagine del centro, almeno relativamente alla cronaca, alla politica e al maltempo, le notizie riguardanti proprio il maltempo delle ultime ore. Ora possiamo andare a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero, progetti sociali, formazione, lavoro e violenza di genere. Arrivano i fondi dell'Unione Europea, vedete il titolo, Pescara disponibili 3 milioni di euro entro fine anno per favorire l'occupazione e combattere le discriminazioni. Andiamo avanti, duello sul capoluogo. Anche sul Messaggero ritroviamo la polemica, la querelle tra Pescara e l'Aquila. Il PD chiude però questa querelle e dice l'Aquila non si tocca, il partito al gran completo boccia la proposta di Cuzzi e Cantagallo, due esponenti del PD di Pescara e Montesilvano. Parla anche, interviene il presidente della regione Luciano D'Alfonso, una questione etilica. Pietrucci vuole espulsioni e scontro proprio all'interno del Partito Democratico. E poi Sospiri, Pagano, lo ha già smentito la maggioranza in comune all'attacco, la città ha sempre reagito e lo farà ancora polemiche anche all'interno, come detto, del PD. Rapino, segretario regionale del Partito Democratico, dice posizioni personali, niente sanzioni. L'assessore Nel Mirino, violenza preoccupante, ha detto l'assessore al comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, che avevamo ascoltato proprio su questa vicenda. Allora noi possiamo andare a vedere il servizio proprio per fare il punto su questa polemica, sul nuovo capoluogo di regione. Per il Partito Democratico la discussione sul capoluogo di regione è una vicenda chiusa. Nel corso di una conferenza stampa in consiglio regionale, i vertici del partito hanno spento ogni polemica, asserendo che non vi è alcun dubbio sulla titolarità dell'Aquila come città capoluogo. Per il Presidente di Pangrazio il dibattito andrebbe fatto, ma su temi di interesse generali. Ridurre un dibattito della classe dirigente regionale su una cosa che è chiara a tutti, che l'Aquila è città capoluogo di regione, mi sembra roba da poco. Sulla stessa linea il capogruppo del PD, che parla di polemiche fatte ad arte per convenienze elettorali. Qui non si sta parlando della visione dei territori, dei problemi dei territori, ma in realtà di lasciare una dichiarazione piuttosto che l'altra per avvantaggiarsi sotto il profilo delle circoscrizioni e delle visioni politiche future e immediate. Le posizioni di Cantagallo e di Cuzzi non hanno cittadinanza all'interno del Partito Democratico. Sono due voci dal sen fuggite per noi. E il segretario Marco Rabino infine a confermare l'unitarietà del partito. Noi riteniamo come gruppo dirigente largo che il capologo è l'Aquila e resterà l'Aquila, non è mai stato in discussione. Questo il servizio, vediamo in basso il super comune, soluzione sbagliata, un comitato per ripensare la fusione, storie, identità, risvolti economici e praticabilità giuridica al centro dei dubbi del politico pescarese, amministratore pescarese Licio Di Biase. E poi blitz nella notte, Aquilani in Piazza Unione, manifesto antiscippo, indagini della Digos. Vedete questo manifesto che è stato lasciato a Pescara in Piazza Unione, proprio di fronte alla sede del Consiglio regionale. Andiamo avanti per parlare proprio del maltempo. Vedete questa pagina del messaggero Pioggia Record in città. Grossi problemi ieri a Pescara. Allora possiamo andare a vedere, abbiamo realizzato diversi servizi. Il primo con l'intervista all'assessore alla protezione civile Gianni Teodoro, proprio per parlare di quello che è accaduto nelle ultime ore nel capoluogo adriatico. Emergenza a Pescara per il maltempo. Assessore Teodoro, da questa notte state lavorando senza sosta, incessantemente? Incessantemente, senza sosta, però posso ritenermi al momento soddisfatto perché sia la squadra di protezione civile, circa 40-50 uomini da ieri fino a quest'oggi, a quest'ora che stiamo parlando, presenti sul territorio, sulle parti più significative laddove anche abbiamo avuto allangamenti di alcune arterie principali. Inoltre siamo presenti con oltre sei pattuglie della Polizia Municipale da ieri sera a questa notte. Altre nuove prenderanno servizio da qui a poco. e credo che tutto sommato con i tecnici comunali e non solo, anche con i soggetti che compongono il COC, che sono stati tutti allertati e tutti operativi, siamo riusciti a mantenere un equilibrio rispetto alle funzioni da assolvere. Questa mattina c'è stata emergenza però all'alba nella zona di Fosso-Vallelunga? Sì, c'è stata un'emergenza, il torrente Vallelunga aveva superato il livello di guardia, quindi abbiamo ritenuto per prudenza e per eccesso di zelo di svegliare, anche se presto, alle 5 di questa mattina, le persone che abitavano e che abitano in quella zona, per evitare che il rischio diventasse pericolo. Ecco, quindi credo che le persone hanno anche compreso e hanno anche apprezzato questa nostra attenzione, elevata attenzione. Abbiamo messo a disposizione chiaramente tutti gli strumenti necessari, dal trasporto pubblico al palazzetto dello sport, per ospitarli in attesa che tutto rientri nella normalità. Preoccupa ancora il fiume Pescara? Qual è la situazione a tal proposito? Il fiume Pescara c'è stato un problema questa notte, questa mattina, nelle prime ore di questa mattina, in un momento dove la pioggia era davvero tanta, in circa mezz'ora abbiamo raggiunto addirittura 16 mm di pioggia sulla città di Pescara, in quel momento la parte del fiume in corrispondenza del palazzo di città è venuto fuori, quindi sono dato, però questo era come dire prevedibile ed era quindi sotto controllo, poi grazie al cielo insomma tutto è rientrato anche lì nella normalità. Un'altra pagina del messaggero sul maltempo delle ultime ore, strade e ponti chiusi per la melma, giornata nera per la viabilità, stoppa le auto sulla lungo fino, bloccato il passaggio da Marina di Città Sant'Angelo a Silvia, Montesilvano acqua alta da Villa Verrocchio a Viale Europa, appenne una famiglia è stata fatta evacuare dalla casa inagibile. Allora andiamo a vedere un altro servizio con Andrea Costantini per fare il punto della situazione. In questo momento sono 40 i centri operativi comunali aperti da ieri nelle quattro province abruzzesi, sono centinaia gli uomini della protezione civile che in queste ore stanno intervenendo con l'aiuto delle idrovore per liberare garage, sottopassi e locali semi interrati allagati, in particolare nel comune di Montesilvano. Proprio nella città riverasca la zona nord dalla nazionale adriatica verso il mare è per lo più allagata e la circolazione risulta rallentata anche a causa dei sottopassi invasi dall'acqua come nel caso di quello nei pressi del centro commerciale Porto Allegro. Nel frattempo continua da parte del centro operativo regionale l'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua a rischio sondazione, il Pescarina nel comune di Turri Valignani, l'Alento nel Chietino, il Pescara soprattutto nella zona di Spoltore, il Saline e il Fino al confine tra la provincia di Pescara e quella di Teramo. L'attività di monitoraggio si sta compiendo anche sulle versante zone a rischio frana. A livello di viabilità sono da segnalare le temporanee interruzioni di alcune strade provinciali del Teramano, la SP19 per Miano e altre arterie nella zona di Atri dove si registra il picco di precipitazioni oltre 200 mm di pioggia in 24 ore. Altri smottamenti sempre in provincia di Teramo sulla strada statale 81, Piceno a Prutina nel territorio comunale di Cellino a Tanasio che al momento risulta chiusa. Nel Pescarese, sensi alternati su tratti viari nelle provinciali e nell'area vestina di Sagin, zona Santa Croce a Penne, incontrata a Baricelle e incontrata a Santo Spirito dove è stato evacuato un appartamento. Svariati gli interventi nel comune di Silvi Marina dove risultano numerosi smottamenti che hanno comportato la temporanea chiusura di strade comunali e provinciali e dove è franata una parte del Belvedere nella città alta. Sotto osservazione le frane di Campi e Civitella del Tronto, seguite H24 dalla sala operativa e dal centro funzionale d'Abruzzo. Sul fronte neve difficili le condizioni meteorologiche a Campo Imperatore, vento forte con raffiche ad oltre 50 km all'ora, temperatura a meno 2 e neve abbondantemente fino a 1600 metri con il manto nevoso al suolo che ha raggiunto i 30 cm. Problemi anche a Francavilla, dove però le scuole sono rimaste regolarmente aperte rispetto alle altre città della costa, dove invece scuole chiuse ieri e anche nella giornata di oggi. Il nostro Alfredo Primandi è andato ad ascoltare il primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani. Vediamo. Nottata tutto sommato tranquilla, Francavilla al mare dove nonostante la pioggia copiosa non si sono registrate particolari criticità. Nella zona nord qualche allagamento e sottopassaggio chiuso in zona Piazza Sant'Alfonso, pompe a lavoro negli scantinati e uomini della Cosvega impegnati nella pulizia dei tombini invasi dal fogliame che viene costantemente giù dagli alberi. A preoccupare però è la situazione della spiaggia. Praticamente non esiste più. La forza del mare ha cancellato la battigia arrivando a lambire le piazze centrali di Francavilla. In mattinata il sindaco Antonio Luciani ha effettuato un sopralluogo in Piazza Sirena assieme ad alcuni rappresentanti dei balneatori. E' quello che vedete lo scenario dopo 24 ore di mareggiate. Il primo cittadino di Francavilla è tornato a sollecitare interventi urgenti da parte della regione Abruzzo affinché possa essere posto un riparo ad una problematica che rischia seriamente di compromettere le attività commerciali e tutto il comparto del turismo estivo. Il mare, la natura ci ricorda la sua forza, ci ricorda che l'uomo non deve scherzare ed ecco che vedete alle mie spalle gravissimi danni creati da questa mareggiata, una spiaggia ormai inesistente e strutture pubbliche, strade che sono sotto attacco da parte della forza di questo mare. Io mi auguro che ci sia un intervento straordinario da parte della regione Abruzzo, me lo aspetto perché Francavilla merita di essere sistemata, questa situazione sappiamo è una situazione che viene da anni e anni forse anche di una non corretta manutenzione delle scogliere, ora è il momento di dire basta, è il momento di intervenire per la protezione della costa. Francavilla è una delle poche località dell'area costiera ad aver tenuto aperte le scuole. Una scelta, spiega il primo cittadino, fatta per non creare ulteriori disagi alle famiglie e soprattutto ai genitori che devono andare a lavorare. Le strade sono praticamente tutte percorribili, al centro operativo comunale non sono arrivate segnalazioni particolari e gravi, con tutti gli edifici scolastici perfettamente agibili. Si parla di abbattuta, anche se non è giornata per fare le battute, le scuole non stanno in mezzo al mare, le scuole stanno al sicuro, sono tutte aperte questa mattina, le strade sono perfettamente transitabili perché c'è una squadra che ha lavorato tutta la notte affinché ciò avvenisse. Ciò che non riusciamo a fare è arrestare la forza del mare, questo supera le nostre possibilità ed ecco qui la situazione. E questo dunque è il punto con tanti servizi che vi abbiamo proposto sulla situazione del maltempo nella nostra regione, soprattutto nelle zone costiere fra le province di Teramo, Pescara e Echieti, situazione che sta leggermente e lentamente migliorando dal codice rosso di ieri al codice arancione di oggi. Parliamo ora di altro, sempre dalle pagine del messaggero, bussi in 15 a giudizio una cupola per gestire gli appalti post-sisma, questo è il titolo dell'articolo di pagina 52, rito immediato per gli affari di Angelo Melchiorra, responsabile dell'ufficio tecnico, imprenditori e tecnici, tangenti e assunzioni. E poi ieri il saluto, cerimonia in prefettura, il saluto, il grazie del prefetto Francesco Provolo alle forze dell'ordine e alle istituzioni locali. E poi la bomba ecologica, cento anni di veleni, il docufilm del Movimento 5 Stelle che verrà presentato sabato alle 18.30 a Chieti, all'auditorium Cianfanani. Ieri mattina c'è stata la conferenza stampa proprio per presentare questa iniziativa, conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Consiglio regionale a Pescara, erano presenti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Domenico Pettinari. Allora possiamo andare a vedere il servizio proprio sulla presentazione da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle di questa iniziativa. Vediamo. Un docufilm per parlare della mega discarica di bussi e per dimostrare anche e far vedere con le immagini quello che è stato ma anche quello che potrà essere in futuro. Sì, vogliamo cominciare a parlare di bussi in un'accezione positiva e dunque abbiamo deciso di raccontare la storia passata in un docufilm che riepiloga quella che è stata la storia triste del polo industriale e degli insediamenti chimici, ma pensare al futuro con un contest di idee e quindi il lancio di una sorta di concorso aperto a tutti gli studenti, giovani studenti di architettura, ingegneria e geologia per arrivare a scegliere il miglior progetto di riconversione sostenibile e di sviluppo economico sostenibile per l'intera area del SIN di bussi. Quale potrebbe essere secondo voi la destinazione migliore per il futuro del sito di bussi? Beh, noi guardiamo cosa accade nel resto del mondo e nel resto d'Europa, pensiamo a Bilbao, pensiamo alla Rur in Germania, ci sono tantissimi esempi di siti che sembravano persi definitivamente e che sono diventati invece delle attrazioni turistiche. L'Abruzzo e lo sviluppo dell'Abruzzo deve puntare necessariamente alla natura e al turismo, siamo la regione dei parchi, vogliamo tornare a parlare di Abruzzo solo per i parchi e non più delle discariche. Non dimenticare, recuperare la memoria storica, troppo spesso abbiamo dimenticato, ecco non è più il tempo di dimenticare, dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere quel che è stato, dobbiamo conoscere anche le tragedie della nostra terra, quindi questo docufilm vuole recuperare la memoria storica, trasmetterla anche a chi verrà dopo, importante, e poi presentare un grande progetto di riconversione. Ecco, noi non vogliamo più che la politica imponga delle scelde, ma abbiamo scelto appunto di individuare i ragazzi migliori, i ragazzi migliori delle nostre università per progettare quel che un domani dovrà essere la riconversione di bussi. Troppo spesso ci siamo voltati dall'altra parte, ecco oggi è il giorno di non voltarsi più dall'altra parte. Siamo ancora alla cronaca di Pescara e dell'area metropolitana, sia la perizia per il killer della psicologa a metà febbraio, il risponso dello psichiatra sulle condizioni dell'assassino di Monia Di Domenico. E poi la cronaca, vedete in basso, il cappellino prende fuoco, gravi ustioni per un bimbo a manoppello. Siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero Progetto Case, bollette salate. Il giudice dà ragione al comune dell'Aquila, comune che ha insistito che i contatori erano non funzionanti, danneggiati o manomessi per il calcolo, non a consumo, ma secondo i metri quadrati. Gli inquilini si erano ribellati. Restiamo sempre all'Aquila, il governo vuole abolire gli uffici territoriali della ricostruzione. La proposta prevede la soppressione a partire dal primo maggio del prossimo anno e c'è preoccupazione per questo. E poi la difficile rinascita, un decreto per accelerare la partenza dei cantieri, sempre all'Aquila. E poi trasporti, fusione di ama in tua avviata, una prima ricognizione. Andiamo avanti. Crabb, licenziamenti al posto dei soldi. Siamo ad Avezzano, nove dipendenti sono finiti in mobilità. Si tratta della metà dell'organico dell'ente, controllato al 95% dalla regione. Il sindaco di Avezzano, De Angelis, lancia durissime accuse contro i vertici regionali e chiede un incontro con il vice presidente della regione, con delega all'occupazione e al lavoro, Giovanni Lolli. E poi Tagliacozzo. I cinesi studiano l'olivicoltura della marsica. E poi dal Senato arriva questa notizia con Pesco Costanzo, che è il centro in provincia dell'Aquila, inserito tra le 100 mete più belle d'Italia. Andiamo avanti. Sul Mona, centro mentale chiuso, Asl Furiosa, atto grave. E poi sempre a Sul Mona in comune nasce il gruppo consigliare del Partito Democratico. E poi Avezzano, Casale, meglio nuove elezioni, che questa gestione, dice l'ex segretario della CGL di Avezzano. E poi la cronaca, blizze dei Carabinieri, Accelano e Marsia, operazioni di controllo del territorio. Siamo a Chieti, violazione della privacy del vecchio assolto per la raccolta dei dati. Secondo il giudice, l'ex direttore generale, si sarebbe uniformato ad una rete di ricerca progettata per docenti e studenti dell'Ateneo. E poi Botte, la ex moglie accuse il marito, ma la vittima della violenza era lui. E poi maltempo, coppia salvata nel sottopasso allagato. È accaduto notizia a lieto fine a San Giovanni Teatino. Oniwell chiude dramma per 420. La trattativa all'ammise al Ministero dello sviluppo economico non ha evitato lo scenario peggiore. Lolli, conclusione funesta, si lavori per un'alternativa. La multinazionale migra in Slovacchia dal prossimo 2 aprile. I lavoratori sotto shock licenziati con un SMS su WhatsApp. Allora noi possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato proprio su questa vicenda. La Oniwell chiuderà a primavera 2018. Alla fine l'azienda ha comunicato la decisione che 420 dipendenti, oltre a decine di addetti dell'indotto fra logistica, manutenzione e servizi, temevano. La denuncia di RSU e sindacati, FIM, FIOM e Wilm, riportata dalla stampa locale, era più che fondata dunque, a dispetto di tutte le lettere diffuse dalla multinazionale in questi mesi di presidio permanente sciopero ad oltranza. L'azienda infatti più volte aveva invitato a non credere alle informazioni e alle indiscrezioni false diffuse dai media. E invece ieri sera l'incontro tra il management americano e il ministro Calen dal Mise ha messo fine a ogni speranza per lo stabilimento della Val di Sangro, aprendo così le porte al clone che si trova in Slovacchia, realizzato con il backup del gioiello a Tessano. La lunga attesa dei 420 dipendenti è terminata come peggio non si poteva. Di questa brutta storia resta la grande solidarietà testimoniata da tutto il territorio che sin dai primi giorni si è stretto attorno a quanti con il proprio lavoro hanno fatto dello stabilimento Onewell di Atesso un modello da imitare e purtroppo a questo punto da esportare altrove. Restiamo sempre alle pagine della provincia di Chiedi del Messaggero. Allagata la scuola più nuova e costata 5 milioni, furioso il sindaco di Lanciano Mario Pupillo e poi Vasto si stringe nell'ultimo abbraccio ai coniugi Ciroli morti in un incidente stradale sulla Trignina. Siamo alla pagina di Teramo, si allaga la boutique sotto sopra, tutta colpa dei lavori in centro. Oggi le scuole riapriranno, la Teramo Ambiente invece sospende ancora la raccolta rifiuti. Sbagliata la pavimentazione del corso, gravi danni per l'atelier di abiti da sposa e poi politica. I civici pronti a firmare la sfiducia dal notaio. Bilancio revocato per i gattiani. Grottesco il comportamento del sindaco, siamo ovviamente alle vicende di Palazzo di Città. E poi lungomari distrutti dalle onde, anche in Val Vibrata per il maltempo e poi blackout nelle vie centrali. Si è rotta una cabina elettrica, problemi a Teramo. E poi in basso, bilancio virtuoso ma tante opere ancora in sospeso, il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, segnala i casi delle strade per i prati di Tivo e Valle. Castellana, siamo alla pagina di Giulianova. L'autopsia non fa luce. Autosequestro bis. Selvono ulteriori esami per stabilire quando e come sia morta la pittrice teatina Renata Rapposelli. Effettuate le radiografie delle ossa durante l'esame autoptico. A sorpresa i carabinieri di Teramo hanno messo i sigilli nuovamente alla Fiat 600 del marito e del figlio della donna. Tornano i RIS. Ancora Giulianova continua l'inchiesta sulla morte di Regina Di Silvestre. E poi il maltempo allagato il sottopasso ferroviario, fiumi a rischio, scuole ancora chiuse anche a Giulianova. E poi Silvi per il maltempo crolla una parete della storica balcolata panoramica, ne abbiamo parlato anche prima. E poi Morrodoro, ora ti sparo in bocca, ristoratore sotto accusa. Siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano la città. Partiamo dalla prima pagina. L'autopsia non dà risposte sul giallo. Anche il quotidiano la città apre su questa notizia della scomparsa della pittrice Renata Rapposelli. RIS di nuovo a Giulianova per l'auto del figlio. E poi maltempo. Vedete la provincia di Teramo ancora una volta sotto scacco delle calamità. Andiamo alle pagine interne. Oniwell manda a casa 420 lavoratori. Al termine della trattativa l'azienda comunica che dal 2 aprile avvierà le procedure di mobilità. Abbiamo visto il servizio di Alfredo Primante. Poi danni del maltempo. Crolli, frane, allagamenti, salvataggi e scuole chiuse. Ennesimo disastro idrogeologico in provincia di Teramo. Già provata dalle gravi calamità di inizio anno. E poi vedete un'altra pagina con tutte le foto delle zone della provincia di Teramo. Soprattutto zone tra Pineto, Silvi, che stanno state colpite pesantemente dal maltempo e dalla pioggia di ieri. E poi il giallo della pittrice. L'autopsia non dà risposte sull'omicidio posta nuovamente sotto sequestro l'auto, la Fiat 600 del marito e del figlio. E poi la politica. Siamo a Teramo. Le minoranze alimentano lo stallo a palazzo. Riproposta la mozione di sfiducia al sindaco, inchiodata a 12 firme, ma per Pomante. La strada maestra resta il notaio. E poi matrimoni civici. Un'altra clamorosa gaffo. Il sindaco Maurizio Brucchi ha negato la delega per indossare la fascia tricolore a Giuliana Valente. Proseguiamo. Donna sei una roccia. La CPO sostiene tre imprenditrici agricole danneggiate dalla calamità. E poi in basso. Pubblicato il bando per lo studio riservato a geologi e ingegneri. Si parla di post terremoto. Teramo vara la micronazione sismica. Ostilità in comune sul progetto della CONA. Richiamo al sindaco affinché non perda tempo. Intanto il comitato viene cacciato in malo modo dagli uffici. Andiamo avanti con un'altra pagina. Siamo la pagina che riguarda la provincia. La Madonnina riaprirà a metà dicembre. La Gran Sasso Teramano ha individuato tecnici e specialisti che gestiranno gli impianti di risalita di Prato Selva e Prati di Tivo. E poi andiamo avanti con un'altra pagina che riguarda la Val Vibrata. Martinsicuro, Mauro Paci, eletto nuovo segretario del PD Truentino. Poi Civitella del Tronto, musica e cabaret alla raduno dei Bacher. Tortoreto, faraone investe sui laureandi abruzzesi. L'azienda leader negli elevatori, offre due borse di studio agli studenti dell'Università dell'Aquila. Siamo alla pagina di Giulianova Pasticcio, strisce blu in Viale Orsini. La giunta le cancella con una delibera. Giulianova Patrimonio le ridipinge. E poi Corso Sauro, pagato l'acconto per le pietre grigiastre. In basso, cantiere in via Oberdan, sgomberati gli inquilini abusivi. Puntellato allo stabile che ospita tre appartamenti, spostati i residenti in regola. Siamo a Roseto. Taristellare, turismo pronto alle azioni legali. Il comparto albergatori, balinatori e commercianti convoca un'assemblea contro gli aumenti del 45 per cento. Ancora Roseto. Roseto approva con riserva il sana cantine di Sante. Regole nella fascia costiera per tutelare la sicurezza e rispettare gli standard dei parcheggi. E poi ad Atri, defibrillatore in centro, grazie al circolo dell'Unione di Atri. Pagina della cultura. Ironie e malinconie. Il bate da scoprire. Un volto poco conosciuto di Gabriele D'Annunzio al centro del convegno al Mega Museum di Pescara. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Quella che riguarda in particolare il Teramo. Teramo alla ricerca del vero Bacio Terracino. Il cambio nel sistema di gioco ha dato nuove opportunità all'esterno. Mi rendo conto, ha detto Bacio Terracino, che non sto dando il cento per cento. Parla anche il vicepresidente del Teramo Cimini. Quest'anno nuovo progetto. Arrenate faremo una grande prova. La fortuna non ci aiuta. Quella col Gubbio è stata una gara stregata. Dobbiamo ritrovare l'umiltà di inizio anno. Ercole Cimini, ospite martedì scorso alla trasmissione pro Teramo di Jacopo Forcella. Siamo alle pagine dello sport del centro. Parliamo del Pescara perché sabato è in programma allo stadio Adriatico la gara Pescara-Provercelli. Allievo contro maestro. Grassadonia sfida Zema. Nel 1993 il tecnico dei piemontesi, ex difensore esordina con il Foggia. Del Boemo ammira l'allenatore del Delfino e all'Adriatico avrà la chance per metterlo nei guai. Noi speriamo che questo ovviamente non accada per il Pescara che è reduce da un solo punto conquistato in quattro gare. Vedete anche questo richiamo dell'articolo di questa pagina. In caso di passo falso si aprirebbe una crisi pericolosa. Bovo e Balzano KO in attacco. Rientrerà Capone per la Provercelli. Tridente con Morra, Firenze e Raicevic. Non ci saranno nella Provercelli, nella formazione piemontese, i due esqualificati. Mammarella e Vives. Parla anche un ex, un grande ex del Pescara Gianluca Agaudenzi. Pescara troppo timoroso. La squadra non ha il volto del Boemo. E poi Coppa Italia. Settore ospiti a 10 euro il 28 novembre. Il Pescara alle 21 giocherà allo stadio Marassi contro la Sampdoria. Importante vetrina per i Biancazzurri. Serie C. Bacio Terracino. Teramo dobbiamo restare uniti. In basso mercato di Serie D. Il San Nicolò ingaggia. L'attaccante Gianpaolo. Il MotoGP. Iannone da Suzuki. Un anno tutto in salita. L'inizio di stagione da incubo. Poi la rinascita e un finale tra i big. Il Centauro Abruzzese. Pronto per il rilancio nel 2018. Il basket con Carlino che scalpita. Il nuovo acquisto del Roseto. Di Paolo Antonio. Rinforzo di qualità. In alto. Calcio a 5. L'acqua e sapone sorride in Coppa con la vittoria per 8 a 5 con la formazione marchigiana del Castel Fidardo. Andiamo a vedere anche per chiudere le pagine dello sport del messaggero. Pescara è ora di vincere. Coulibaly sprona il Delfino in vista della gara con la Pro. E noi possiamo andare a vedere velocemente le dichiarazioni di Coulibaly al microfono di Andrea Costantini. Perché il Pescara sembra abbia delle difficoltà ad assorbire il credo di Zeman? Perché ancora non si vede la squadra che Zeman vorrebbe? No, non è questo. Noi stiamo cercando di fare tutto quello che vuole il mister. Ancora non è che non siamo abituati, però manca poco. Quello che manca pure noi lo stiamo lavorando perché le altre squadre non è che sono pure scarsi. Tu hai vissuto un momento non facile nella gara con il Brescia. Al quarantesimo dopo il gol sei stato sostituito. Non è stato un bel momento. Molti hanno anche criticato questa scelta di Zeman di toglierti quando mancavano pochi minuti alla fine del tempo. Cosa hai pensato in quel momento? Come hai assorbito magari anche questa sostituzione? No, io non è che l'ho apprezzato, però il mister è lui chi sceglie. Io non ho niente da criticare perché mi ha sempre messo in campo, dal Serie A fino ad ora. Quindi se mi fa uscire in campo, tipo quando mancava cinque minuti, è suo scelto. Perché un pallone davanti a un avversario che lo perdo così e tanti palloni che ho perso pure io lo so che non ho giocato bene. Quindi ha scelto di togliere e mi ha messo un altro. Quindi io cerco di fare bene la prossima volta, cerco di giocare bene. Senti, ora alle porte c'è questa partita con la Provercelli che è proprio da non sbagliare. Pure noi lo sappiamo che è da vincere, pure in casa dobbiamo dare tutto, dobbiamo fare tutto per essere contenti con i tifosi. Pure noi dobbiamo vincere la partita per noi perché ci serve un po' che si rialziamo. Senti, un'ultima cosa, tu come sta in particolare il tuo ginocchio che ti ha un po' bloccato nelle ultime giornate? Eh sì, ora non lo sento. Da una settimana che mi sono fermato e dopo ho ripreso. Ora secondo me sta bene un po'. Queste le parole di Coulibaly. Parliamo anche della Provercelli. Il patron secondo, Massimo secondo, carica la squadra, formazione piemontese in vista della gara di Pescara. Come detto mancheranno gli squalificati Vives e Mammarella, ex capitano del Lanciano ma cresciuto calcisticamente nel Pescara. Poi di spalla vedete l'articolo che riguarda l'Aquila, Popeschi. L'Aquila speriamo per la svolta, formazione rosso-blu che giocherà domenica in casa della capolista Matelica. E poi in basso, calcio a cinque, Coppa Italia con l'Acqua e Sapone che parte con il botto e vince a Castelfidardo per otto a cinque. Gara chiusa nel primo tempo dopo il sette a uno. Seconda pagina di sport del messaggero, Teramo, massimo umiltà, parla a bacio Terracino. Non sto rendendo al top ma con le arenate possiamo tentare l'impresa. E poi il basket di Serie A2, Carlino a Roseto, viaggio avventuroso. E' arrivato Matt Carlino, l'italo americano con passaporto italiano che è il nuovo rinforzo della formazione rosetana. Ultima in classifica ancora a zero punti. E poi la mezza pagina del giovedì che il messaggero dedica al Calcio Wisp Abruzzo. Vedete il punto sui campionati. Primo successo dell'Ecogas in Serie A, Utopia Pub, Innamorati Ok e poi Avezzano sorprese nell'ottava giornata. E poi c'è anche il punto del mondo sul campionato Over 40. Noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di giovedì 16 novembre con Mattino 6. Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia, ringrazio voi per averci seguito. E vi rinnovo l'appuntamento come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.